stiamo per scoprire se avete vinto pechino express davanti a voi c'è un incantatore di serpenti nei cesti i suoi tre cobra solo sei tre cobra incantati si alzeranno su se stessi allora inizierà la naga dance a quel punto se la maschera del serpente danzerà con gli altri allora avrete vinto siete pronti prontissimi siamo arrivati fino a qua manca solo il ballo del serpente perciò che l'incantesimo abbia inizio il primo si alzato il secondo si è alzato se si alzerà il terzo partirà la danza anche il terzo si è alzato che la naga dance abbia inizio aah aah No, 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 no! La doppia vincitrice di Pechino Express! Andiamo, Maxi! Andiamo! Mi dispiace. Lo sono meditati, sono sempre senti tra le prime posizioni ed è giusto che sia così. Ma per noi abbiamo comunque vinto noi perché siamo state bravissime, non ci siamo mai rese, abbiamo lottato. Noi abbiamo rimpianti, torniamo a casa felicissime, pensiamo a noi e al nostro percorso, siamo felicissime così. Diciamo che vincere questo programma ci ha fatto riscattare ancora una volta perché abbiamo avuto successo in America e vincere il programma così è ancora un altro successo, ce lo siamo portati a casa. Ci siamo messi alla prova, ci siamo riscoperti per l'ennesima volta di quanta forza abbiamo dentro, quanta forza di volontà. Fala così che viene bellissima! Abbiamo tanti obiettivi e tanti sogni che vogliamo ancora realizzare nella nostra vita, quindi questo è solo l'inizio. Il vostro amato Cobra! Grazie Cobra! Facciamoci un applauso! Un applauso ai pasticceri, vincitori di Pechino e Prec. La notte è il drago! Se domani ci dicessero, per le partite, si riparte, si riparte, siamo pronti a tutto. Ma questo cazzo! Te ne rendi conto? Eh? Mi hanno messo questo forno!